Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi il nostro caro amico Gufosaggio ha deciso di deliziarci, proprio deliziarci, proprio visto che siamo in ambito pasquale, così, con un titolo che fa quasi venire la collina in bocca, poi non so a voi, ma a me onestamente sì. Quest'uomo non si lava i capelli da 80 anni, quindi comunque un video a tema igiene, un video a tema salute. Sono tornato a fare le reaction Gufosaggio, ragazzi, noi lo chiameremo per sempre Gufosaggio, perché ormai lui si è cambiato Gufo, però noi Gufosaggio gli vogliamo bene, quindi nei nostri cuori rimane Gufosaggio. Ovviamente vi invito sempre a supportarlo, perché ragazzi, altrimenti senza i suoi video non ci sarebbero queste reaction. Vediamo, ho paura, vediamo. Un nuovo video. Eccoci qua. Il modo in cui le persone indossano, acconciano e attribuiscono significato ai propri capelli. Tipo io ho cambiato colore adesso per il Romics 5, 6 e 7 aprile, mi raccomando, eh. Ma quello che capelli ha, vabbè. What up? Sì, ma cosa c'entra il tipo che non si lava, vabbè. A parte che quella è la barba, però vabbè. Ok. Vediamoli, vediamo. Quest'uomo sconosciuto... Eh, la madonna, ma che c'è, gli spaghetti! Rasta Rapunzel, veramente! La gente è Rasta Rapunzel, ed è diventato virale su Instagram dopo che la gente del posto lo ha filmato in piedi. Ma ha letteralmente delle corde, sì, questo se va in galera e non lo rasano, praticamente può evadere quante volte vuole. Cioè... In cima è un edificio basso. I dreadlocks sono ciocche o trecce formate da... Bellissime. ...pelli naturali che possono risalire ad antiche civiltà e sono spesso associati a significati culturali o spirituali. Ah, io non lo sapevo questo in realtà, ok. In un affascinante clip di 45 secondi... Madonna! ...un uomo misterioso con dei lunghi dreadlock... Cioè, ma letteralmente deve sbrogliarli come le cuffie dentro le tasche, sì. ...facura l'attenzione mentre svela i suoi capelli al mondo. Madonna, raga! Ma quanto saranno pesanti poi, tipo, tutti... Coltiva i suoi dreadlocks da oltre 40 anni. Con dita agili, distica con... 40 anni? Cura la sua cascata di capelli, facendo paragoni con la leggendaria Rapunzel. Ebbè, lei ce l'aveva lisci, tu ce l'aveva i dreadlocks, però siamo lì comunque. La sua dedizione al mantenimento... Madonna, sembrano termi. ...e alla crescita dei suoi capelli ha portato alla realizzazione di dreadlocks lunghi oltre 5,7 metri. Madonna! Molte persone hanno notato che questi potrebbero essere alcuni dei dreadlocks più lunghi di sempre. Ma secondo me pure, eh! Tuttavia, l'attuale detentore del fitness dei primati è Asha Mandela di Cleo... Ah, oddio, mi pare che l'avevamo visto! Ma perché c'ha un serpente tatuato? In Mont, in Florida. I suoi dreadlocks sono super lunghi, circa 5,8 metri. Vabbè, ma pochissimo comunque, eh, la differenza. Ben 19 chili. Porca miseria, zi, 19 chili. Sembra che quest'uomo possa essere un degno contendente. Ebbè! Numero 19. Allucinante, ragazzi, comunque. Questo è Joss... Porca miseria, ma che crestone c'hai? Chris Amor, di Park Rapids, Minnesota. Che si è assicurato un posto nei Guinness dei primati nel 2021. Ma esattamente per acconciarti i capelli così, cosa devono fare? Tipo saldirti muratori con la scala? Cioè, come fai ad arrivare fino alla punta per metterci il gel o quello che ci metti per tenerli così? Ha ottenuto un po' il mohawk completo più alto. Porca miseria. Un record che abbiamo arrivato in precedenza. Con un'altezza impressionante di circa 108. Ah, ok, lui si abbassa e sua moglie. 8 centimetri. I suoi capelli sorprendenti sono difficili da non notare. Madonna, zi. Joseph Trovat. Madonna. Prende l'unicità del mohawk e apprezza anche le impagabili reazioni delle persone quando lo incontrano per strada. Che sicuramente non sono normali. C'è una cresta di 5 metri. Lo trovi in città, ma convivere con questi capelli può essere piuttosto impegnativo. Eh, immagino. Soprattutto quando si attraversano porte. Oddio, è vero. Immaginati quando deve entrare al supermercato che si deve mettere tipo... Toppiti bassi e si sale in macchina. Oh mio Dio. Alla fine però ne vale la pena. Il primo tentativo di Joseph di farsi crescere il mohawk più alto è stato nel 2007. Io avevo 7 anni. Ha esitato perché avrebbe dovuto radersi i lati dei capelli per partecipare alla competizione. Ebbè. Cosa che davvero non voleva fare. Cioè esistono delle gare di creste. In America la gente è veramente strana, però sa come divertirsi, questo è sicuro. Numero 18. Letizia Kai è una... Ha fatto una tromba con i suoi capelli, a parte che lei è bellissima. ...artisti moderni che ha concepito dei concetti senza precedenti... Ma come fa? ...per l'arte dei capelli. Originaria della costa d'Aborio. Ok. Letizia è diventata famosa per aver creato delle intricate sculture... Cioè incredibile. ...diando i suoi capelli per realizzarle... Sì è proprio bella lei. ...delle extension con i propri capelli e usa gli specchi per modellare... What? Ho fatto una mano! ...a volte utilizza fili e colla per creare dei disegni più complessi. No vabbè ragazzi, incredibile. E' la prima volta che vedo una cosa del genere in tutta la mia vita! ...pure raffigurano cose quotidiane come le faccende domestiche o esprimono emozioni potenti... ...come quella volta... ...l'uguaglianza tra maschio e femmina, questo è bello, mi piace. ...con una visione unica delle ovaie. Ha anche realizzato una scultura di muscoli sporgenti su braccia sottili... Che figata! ...diare un messaggio sul bullismo. Prima di tutto questo... ...una spada ha fatto! ...aveva conseguito una laurea in economia aziendale. Cioè capito? ...in seguito passò all'arte dopo essersi... ...bellissimo comunque c'è. ...gerata al movimento dei capelli naturali. Lei strabrava raga, troppi troppi complimenti c'è. ...il movimento le è caro perché ha subito la caduta dei capelli all'età di 16 anni. Ah, quindi proprio è... ...ok, ci sta. Il popolo imba abita le regioni... Dio, sembrano dei viustel. ...i settentrionali della Namibia. Ma sono veramente dei capelli? ...fino all'angola e alla skeleton coast. Per le donne imba i loro capelli hanno un grande significato... ...perché credono che dimostrino la loro forza in questo duro ambiente desertico. Ebbè. ...creano una pasta speciale da piante. Cioè? ...grasso animale e una sostanza rossa... ...per colorare di rosso la pelle e i capelli. Ah! ...questa tonalità... Ma che cos... ...simboleggia la vita, quel che rispecchia il colore della terra. Ok. ...le loro acconciature raccontano molto di loro, come la loro età e il loro posto nella comunità. Stranissima sta roba comunque. ...del loro villaggio si dedicano allo styling insieme. Ok. ...utilizzando fieno, pelo di capra e peli aggiuntivi per creare... ...sempre noi che tipo andiamo in giro a cercare i cappelli da 1000 euro. Boh, guarda l'oro. ...le ragazze spesso... Assurdo. ...si radono la maggior parte dei capelli, lasciandone solamente una piccola quantità sopra... ...per creare le trecce. Ah! ...quando raggiungono la pubertà, i capelli pettinati devono coprire il viso per evitare di attirare l'attenzione maschile. Le ragazze in età da marito, invece, postrano il volto intero. Beh, certo. ...quando ha una donna sposata da un anno che ha avuto un figlio, si indossa il copricato e rembe realizzato con pelle di animale. Assurdo, raga. Nel frattempo... Cioè, hanno una cultura incredibile, comunque, queste persone. ...indossano il turbante dopo il matrimonio e non se lo tolgono mai. Ah, quindi proprio, cioè, per loro i capelli sono proprio una roba tipo, cioè, non me li devi guardare, no? Assurdo, cioè. Ok, vai. Bella, 11 anni, ha sorpreso tutti con i capelli perfettamente divisi tra metà bionda e castana. Scusa, non sono tinti? Risultato di una rara condizione genetica. What? Sua madre, Jenny, si meraviglia dei capelli unici di Bella e nota come i passanti spesso le chiedono se si tinge i capelli. Eh, sì, ho compilizzato quello io. ...vende che i suoi straordinari capelli siano dovuti alla poliosi, una condizione che provoca la mancanza di pigmento in una giocca di capelli. Ma è una roba assurda questa qua. Poliosi, nota anche come poliosis circonscritta, si presenta come una striscia bianca sui capelli. Ho capito, ma lei ce l'ha perfettamente divisa. ...sulle sopracciglia, sulle ciglia e sulla pelle circostante. Ok. Gli occhi di Bella hanno anche ciglia di diversi colori. Ah! ...are sul lato destro e scure su quello sinistro. È interessante notare che la straordinaria caratteristica di Bella... Incredibile! ...le permette di scegliere il colore dei suoi capelli ogni giorno, cambiando la sua parte per abbinarla al suo vestito. Eh sì, perché fondamentalmente, essendo praticamente quasi bianchi, ce li può colorare come vuole. Nel corso del tempo... Ma che roba, zi! ...hanno osservato che la parte scura dei suoi capelli si schiarisce in estate, formando uno schema insolito. Durante le visite... Ma guarda, non ci credo! ...le mercato, le altre persone spesso si fermano ad amminare i capelli di Bella, oppure si informano sulla loro colorazione. Assurdo, comunque! Questa non... Cioè, non me l'aspettavo! Ma che cos'è sta roba? ...dente nel villaggio e di Mandanda nel biar. Ok. ...e spoggia con orgoglio i suoi dreadlocks, lunghi circa 183 centimetri. Questi sono dreadlocks? ...che porta con sede a 40 anni. E c'è una ragione per cui ha scelto di farsi crescere i capelli così lunghi. Ok. ...afferma che Dio gli ha chiesto in un sogno di non tagliarsi o lavarsi mai i capelli. Oh no. Ma come te l'ha detto Dio, zi? Ma scusami, ma quale Dio esistente sulla Terra vuole che puzzi come un cagnaccio proprio preso da tutto bagnato? Ma cosa stai dicendo? Te l'ha detto Dio? Cioè, Dio ti dice di non lavarti i capelli? Penso che sia la scusa più strana che abbia mai sentito in tutta la mia vita! Letteralmente! Cioè, ma manco il mio compagno che non si lavava alle medie diceva ste cose in classe! In seguito a questo intervento di vino, smise anche di bere e persino di fumare. Eh, dai, smesso di fumare? Bravo, ovviamente, però di bere non... In segno di devozione alle divinità. Ma perché, raga? Ha iniziato a farsi crescere i capelli all'età di 22 anni e quando non sono... Ma no, ma c'ha la paglia lì in mezzo. ...amuffiati sopra il turbante, i suoi capelli sono abbastanza lunghi da raggiungere il suolo. Porca miseria! A differenza dei santi hindù che sfoggiano dei lunghi giat, i capelli di Sakal Dev formano un enorme nodo. Eh, si vede, ma perché non si ripettino neanche? Quelli sarebbero da tagliare completamente tutti. E copre con un panno bianco per mantenerli puliti. Puliti? Non credo siano puliti. Mi dispiace, Gufosaggio, ma è una concezione di pulizia molto... Ecco, sì. Strana. Vai. Oddio. Vado, che occhi assurdi ha. Aspetta, questo mi pare che era tipo quella patologia che ti dà i capelli che non puoi pettinare. Mi pare che è tipo una roba rarissima. Esatto, mi ricordo. Effettivamente come fai a pettinarli? Deve metterci il balsamo? Boh, non lo so. Beh, se ci metti il gel, però tecnicamente riesci o no? Ebbè. Ok. E quindi crescono come dei pazzi. Si sembra un po' tipo un rocchettaro anni 90. Madò! Cento casi? Inoltre, non esiste un trattamento definitivo. Ah. Ma ecco la buona notizia. Spesso la situazione migliora quando i bambini raggiungono la pubertà. Ah, ok. La mamma di Lockhart... Quindi quando crescono, poi... Dice che i suoi capelli devono essere maneggiati con delicatezza. Ah, quindi mi sa che non puoi utilizzare manco tutti sti grandi prodotti per allisciarli, perché sennò... Perché si abrovigliano facilmente. Ah, ok. Lo lava solamente una volta alla settimana, perché non si unge rapidamente. E i suoi capelli non assorbono facilmente l'acqua. Ah, quindi rimangono puliti... Mmh. I capelli di Loughlin hanno una mente propria. Si alzano e rimangono morbidi e soffici fin quando era bambino. Ok. La gente lo chiama addirittura Pulcino. Ebbè, è vero, sembra un po'. E' vero, eh. Numero 13. Vai, dubero. Sempre dubero, dice. Una donna della Louisiana. Madò, che belli! Di nome Evin D'Agas detiene un notevole Guinness World Record. Capelli afro? Afro più grande. Il suo taglio afro... Madò, raga! E' vero, massiccio. Enorme! Sulla circa 10 pollici di altezza. Porca miseria! 10,2 di larghezza e 5,4 piedi di circonferenza. T'altro colore uguale al mio. Incredibile. Ha raggiunto questo record sia nel 2010 che nel 2021. Madò, ci vorrei troppo andare in sto museo, raga. Secondo me è una figata. Perché ci sono tipo tutti i Guinness dei primati e puoi comprare un sacco di cose poi, no? È iniziato quando sua sorella ha pubblicato una foto di Evin online. E qualcuno le ha suggerito di provare a entrare nel Guinness dei primati. Addirittura. Nell'afro più grande. Evin... Beh sì, effettivamente, guarda che capellazzo gigante che c'ha. E che no, è iniziato. Madonna, ma l'estate come fa? Non muore di caldo, tipo? Penso di sì. Attirando l'attenzione dei detentori del record. Madonna. Evin si fa crescere i capelli da molto tempo, da circa 24 anni. Boia. Ha smesso di usare prodotti chimici per lisciare i capelli nel 99. Ok. Perché voleva abbracciare i suoi capelli naturali. Ok. Inizialmente la gente la prendeva in giro. Classico, come ogni cosa particolare la gente prende sempre in giro. Ma le cose cambiano quando sempre più persone iniziano ad apprezzare i capelli naturali. Certo, ovviamente, perché poi è diventata famosa. Oh, grande, ti ricordi quando andavamo a scuola insieme? E lì gli dai un colpo di capelli e li fai sparire. Perché letteralmente quei capelli possono essere utilizzati come borsa. Perché non sono lisci. E siano tutti aggrovigliati tra di loro, gli afro. Che ci puoi mettere il telefono dentro e farti pesare meno la borsa. È sempre stupito perché Evin si pettine i capelli da sola e deve tagliarli da sola occasionalmente. Ah, quindi non può andare da un parrucchiere. Beh, effettivamente con un Guinness dei primati, che è quella probabilmente ci fa pure i soldi sopra i capelli. Quindi io eviterei di farmi ritoccare da persone che non sono io. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Carl Heinz, Hill di Berlino, Germania. Ma che baffi sono? Mania sfoggia dei baffi eccezionalmente belli. Enormi! Oddio, eccezionalmente belli non lo so però. Sì, otto vittorie ai campionati mondiali di barba e baffi. Boia! Da il 99 e il 2011. Campionato mondiale di barba e baffi. Ma solo io non le conoscevo queste cose, le avevo viste solo su The Sims quando ero piccolo. In questa competizione non si tratta di misurazioni con un metro a nastro. Ah, qua proprio si parla di acconciature, robè. Dipende da quanto sia impressionante il tuo stile. Ok. Novembre e... Madonna, questo c'ha i cannoli dentro. ...periodo in cui gli uomini di tutto il mondo si fanno crescere i baffi per accogliere dei fondi per la salute maschile. Ah, ok. Beh, che è una cosa bella però. Questa organizzazione ha finanziato numerosi progetti per la salute maschile a livello globale. Ok. Vedendo il modo di cui pensiamo alla salute maschile. Beh. Il successo di Karl Hines è un grosso problema per il mondo dei baffi. Perché? È una star ai campionati dove persone provenienti da diversi paesi... Sono stranissimi. ...notano in mostra i loro fantastici peli sul viso. La Germania di solito domina la competizione con molti partecipanti e i loro stili... Ma che cal... Cioè, questo con i baffi è diventato una specie di... La competizione non riguarda solamente i baffi. Ci sono diverse categorie di barbe e stili come il Fu Manchu oppure il Garibaldi. Ok. Assurdo. Raga, sto scoprendo robe assurde. Numero 11. Vai, il mio numero, eh. Il mio numero. Se hai visto il film The Greatest Showman del 2017 potresti conoscere Letty Lutz. La donna barbuta con una voce così bella e potente. La prossima persona sulla nostra lista le somiglia sorprendentemente. Ecco Arnam Kaur, una sensazione britannica sui social media, life coach e oratrice, che detiene un Guinness dei primati come la donna più giovane con la barba furta. Com'è possibile? All'età di 24 anni si fece crescere una barba lunga a circa 6 pollici. Ah. Arnam è nata in una famiglia tradizionale Punjabi e gli è stata diagnosticata la PCOS. Eh, infatti, perché non credo sia normale che una ragazza cresca così tanto... Che ha causato un'eccessiva crescita di peli sul viso. Eh beh. Crescendo ha sempre cercato di togliersi i peli a causa del bullismo che ha subito. Eh beh, ovviamente. Tuttavia, all'età di 16 anni... Cioè, vorrei poter non dire ovviamente, ma ovviamente per la società in cui viviamo, ragazzi. Ha finalmente abbracciato il sospetto e ha deciso... E l'ha fatto diventare un'unicità, ci sta. ...farsi crescere la barba. Invece di nascondersi, lavora come modella e sensibilizza sulla PCOS. Dopo che ha stabilito una forte presenza, ha iniziato a ricevere dei contratti da modella, interviste e altri inviti. Eh beh, certo, perché comunque è stra-particolare. 13 ha fatto la storia alla London Fashion Week, dove è diventata la prima donna con la barba a spilare in passerella. Che roba assurda, zi. Vai! Numero 10. Vai! Cioè? 1,70m?! Oh mio Dio. Ok. Vogliazi, guarda. Cioè? Secondo la stessa Nilanshi, non si tagliate i capelli dal 2008, dopo aver ricevuto un brutto taglio. Cioè, aspetta, mi stai dicendo che sta tizia si è fatta crescere i capelli due metri solo perché c'aveva paura dei parrucchieri? Ma cambialo! Non è che fanno tutti cagare, cioè! Oddio! 22 ha deciso di fare un cambiamento. Ok. Il suo diciottesimo compleanno... Basta, addio capelli... Ok. ...certa di tagliarseli dopo 12 anni. Beh, ci sta, secondo me dopo 12 anni che li porti così lunghi, sì. Io non voglio dire niente, però, secondo me ti pesano, raga. Cioè, boh. Nilanshi vedeva i suoi capelli come un portafortuna, ma sentiva che era tempo di ricambiare. Ci sta, ci sta, ha senso, ha senso. Inizialmente aveva pensato di donare i suoi capelli per realizzare parrucche. Ma, e invece? La sua madre ha suggerito di esporli per ispirare gli altri. Ah, quindi sono tipo in un museo, non ho capito. Noi li ha donati a un museo per... What? Veramente? ...dendo alle persone di vedere imparare tra respirazione dalla sua storia. Beh, ragazzi. ...si aggrata per i suoi strumenti... Però, bella, cioè. ...di mare i capelli. Li nasci, non si lascerà crescere di nuovo i capelli così a lungo. Ah, quindi basta, ha detto basta, chiudo, addio per sempre, ok? Vestirli richiedeva molta attenzione. Direi, direi. E voleva concentrarsi su altri interessi. Beh, ragazzi, che dire, c'è una parte 2 in questo video, perché ormai i video di Gufosaggio durano, direi di Dio, ma io non posso fare video di un'ora. Quindi fatemi sapere se volete altri video sui capelli. Io nel dubbio vi mando un bacio gigantesco e non so quando uscirà questo video. Nel caso, comunque, vi auguro buona Pasqua, buona Pasquetta, fondatevi di cibo e divertitevi. Ciao!